Cari amici, un saluto da Nat Russo. Oggi è il 16 ottobre. Nel 1793 la regina di Francia Maria Antonietta viene ghigliottinata a Parigi. Maria Antonietta era figlia dell'imperatore Francesco I e di sua moglie Maria Teresa d'Austria, nonché sorella di Giuseppe II, imperatore del Sacro Romano Impero e re d'Ungheria e Bohemia e Leopoldo II, grandunca di Toscana. 1843 il matematico irlandese William Rowan Hamilton scopre i quaternioni, cioè estensioni dei numeri complessi. Un quaternione è un oggetto formale del tipo A più BI più CY più DK, dove A, B, C, D sono numeri reali e I, J e K sono dei simboli che si comportano in modo simile all'unità immaginaria dei numeri complessi. 1869 a Cardiff, vicino a New York, viene scoperto il cosiddetto Gigante di Cardiff, una delle più famose burle della storia degli Stati Uniti d'America. Venne descritto come un uomo pietrificato, altro tre metri scoperto da parte di alcuni lavoratori che stavano scavando un pozzo dietro il fienile di William Stubb Newf a Cardiff, nello stato di New York. 1869 l'Università di Cambridge inaugura il Gearton College, primo college femminile del mondo. E siamo al 1902, l'anno in cui si ottiene il primo utilizzo della comparazione delle impronte digitali da parte dell'investigatore e criminologo francese Alphonse Bertillon. Questi fondò nel 1870 il primo laboratorio di identificazione criminale ed inventò l'antropometria giudiziaria, chiamata anche sistema Bertillon, un sistema di riconoscimento biometrico adottato poi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Inizialmente fu un semplice impiegato, fu poi nominato capo fotografo della quest'ora di Parigi. Qui inventò il suo antropometro, un sistema di riconoscimento biometrico basato su 14 misurazioni più le impronte digitali. 1943. Il rastrellamento del ghetto di Roma porta all'arresto di 1259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207, tra bambini e bambine quasi tutti appartenenti alla comunità ebraica. Fu effettuato dalle truppe tedesche della Gestapo, dalle 5.30 del mattino sino alle 14 del pomeriggio. Il ricordo di questo giorno per gli ebrei è sabato nero. Fu effettuato principalmente in via del portico d'Ottavia e nelle strade adiacenti, ma anche in altre differenti zone della città di Roma. E siamo al 1968, quando gli atleti statunitenti Tommy Smith e John Carlos vengono espulsi dalla Nazionale Olimpica, poiché pochi giorni prima le Olimpiadi di Città del Messico, dopo la finale dei 200 metri, in cui erano giunti rispettivamente primo e terzo, erano saliti sul podio scalzi ed avevano ascoltato l'inno nazionale a Capo Chino, sollevando un pugno in cui avevano infilato un guanto nero, a sostegno del movimento olympic project for human rights. 1986, Reynold Messer, grande scalatore italiano, raggiunge la vetta di Lotz in Nepal e diventa il primo uomo ad avere scalato tutte le 14 vette che superano di 8.000 metri. E il 2002, quando ad Alessandria e ad Egitto, viene inaugurata la Biblioteca Alexandrina, a ricordo della mitica biblioteca anticamente distrutta. E nel 2005, all'Ocri, Reggio Calabria, viene assassinato Francesco Fortunio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. Per questo 16 ottobre è tutto, un saluto da Nat Russo, a presto.